Ti piacciono i test della personalità? Come passatempo mentre sei in vacanza ma anche durante una pausa al lavoro o dallo studio o semplicemente in un momento di noia? Oggi ti propongo un test facilissimo e veloce che potrà svelarti qualcosa in più sul tuo carattere. Solo tre domande, ti incuriosisce? Allora iniziamo subito dopo la sigla. Per ogni domanda avrai 10 secondi. Se vuoi più tempo metti semplicemente in pausa il video. Quale animale ti piace di più fra questi? Mettili in ordine di preferenza e segna la classifica su un foglio oppure ricordala fino alla fine. Fatto? Allora passiamo alla prossima domanda che è già la penultima di questo rapidissimo test. Per ogni elemento indica l'aggettivo che lo descrive meglio. Pronti? Eccoli. Ed eccoci all'ultima domanda. Ad ogni colore ha soso una persona che è o è stata importante nella tua vita. Finito. Ti ricordi tutto bene? Allora iniziamo con i risultati. Il modo in cui ordinato gli animali rappresenta le tue priorità nella vita. Vediamo a chi hai dato più valore in questo test. La capra è la persona che ami. Il cavallo la tua famiglia. La mucca la tua carriera. La tigre il tuo ego e l'orgoglio. Il maiale invece il denaro ed in genere i beni materiali. Allora com'è venuta la tua classifica? Scrivila nei commenti se ti va. Passiamo alla seconda risposta. Gli aggettivi che hai scelto rappresentano alcuni aspetti della tua vita. Nel dettaglio il cane è la tua personalità. Il gatto è la personalità del partner. Il topo la personalità dei tuoi nemici. Il caffè invece rappresenta il sesso e la passione. E il mare ciò che pensi della vita. Passiamo subito all'ultima risposta. Ti ricordi? Avevi associato ad ogni colore una persona importante. Bene. La persona associata al giallo ha segnato in qualche modo la tua vita. Quella associata al rosso la desideri o l'ammiri. Al bianco è la tua anima gemella oppure una persona con cui stai molto bene o ti identifichi. Arancione è un vero amico o una vera amica. E infine chi hai associato al verde ti dona molta energia e ti calma proprio quando ne hai bisogno. Sei d'accordo con i risultati ottenuti? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Sono curioso di leggere se è funzionato anche con voi. Ci sono altri test che stiamo valutando per il canale. A breve usciranno. Iscrivetevi per non perderli. E se vi siete già iscritti? Beh, ci vediamo al prossimo video!